Ciao ragazzi, bentornati in SoulPaste Yoga. Io sono Alessandra e con la lezione di oggi vorrei parlarvi di Aparigra, il non attaccamento di cui ci parla anche Patanjali nei suoi yoga sutras, è uno degli yamas di cui lui ci parla. Per tutti gli approfondimenti sugli otto passi di cui parla Patanjali e gli yamas trovate tutti i riferimenti qui sotto nella descrizione del video, tutti i riferimenti ai blog post in cui ve ne parlo. Come dicevo Aparigra che il non attaccamento, certo non attaccamento ovviamente verso i beni materiali come fonte della nostra felicità, ma oggi vorrei soffermarmi su il non attaccamento sotto un punto di vista emotivo, verso tutto un certo tipo di situazioni, di raggiungimenti, di emozioni al quale ci siamo attaccati particolarmente perché andiamo a legare a queste emozioni, a queste circostanze la nostra felicità e il nostro valore come persone. E dunque finché non si realizzano o se non si realizzano, andiamo a sentirci, cominciamo a sentirci non abbastanza e quindi come se non valessimo come individui. Ebbene, oggi nella pratica vorrei vedere assieme a voi come andare a sfidare, a spostare i confini di queste convinzioni che ci siamo costruiti in qualche modo attorno a noi nella vita e per magari chissà un giorno riuscire a liberarcene. Bene, prendiamo una posizione comoda, questa per me oggi è la mia posizione comoda, inginocchiata al tappetino, voi potete prendere un loto, un mezzo loto, come davvero è più comodo per voi. Cominciamo a chiudere gli occhi, magari portiamo le mani sulle gambe o sulle ginocchia se siete con le gambe incrociate, magari comincio a concentrarmi sul mio respiro. E posso anche prendere un mudra con le mie mani, magari pollici, indici a contatto, palmi delle mani verso il basso per andare verso un gesto leggermente più introspettivo. E ci diamo anche mentalmente il tempo di arrivare nella stanza, di sederci qua sul nostro tappetino. Portiamo l'attenzione semplicemente a come stiamo respirando. Se è noto di respirare prevalentemente nel torace, come facciamo sempre, incominciamo a portare la respirazione più verso l'addome, quindi ad ogni inspiro gonfio bene bene l'addome, l'ombelico va verso l'esterno, lontano da colonna vertebrale. Ed espirando, mi raccomando, sempre dal naso, riportiamo l'ombelico verso la colonna vertebrale, sgonfiamo bene l'addome e permettiamo ai nostri polmoni di espellere tutta l'aria. Di nuovo, inspiro, gonfio l'addome e mi do il tempo anche qui di abituarmi a quest'altro modo di respirare. Probabilmente ci farà sentire più calmi, più centrati, col tempo più radicati. E vi chiedo in questo momento di introspezione di pensare a una convinzione, una visione che avete, magari un pensiero ricorrente che costantemente ritorna nella nostra vita, magari pensando a voi stessi, o magari pensando alla vostra felicità. Vi do degli esempi. Per esempio, non sono abbastanza. Sono abbastanza solo se riempite voi i puntini. O valgo e o dimostro di valere soltanto nel momento in cui raggiungo un tale obiettivo. E poi magari raggiungiamo quell'obiettivo, ma non ci sentiamo ancora abbastanza, non ci sentiamo di valere. Quindi Andiamo a spostare un po' più là il paletto, a spostare un po' più là il nostro obiettivo. Ma come un circolo vizioso continuiamo sempre a comunque non sentirci abbastanza, nonostante quello che otteniamo, nonostante quello che raggiungiamo. Oppure sarò felice solo nel momento in cui avrò dimenticato una certa cosa, avrò dimenticato un certo evento. O solo nel momento in cui quella persona mi chiederà scusa. Notiamo come in tutte, tutte le occasioni o quasi andiamo ad imputare la nostra felicità all'esterno. Aspettiamo che sia un evento esterno a validare il nostro valore la nostra felicità o se se ce lo meritiamo, se ci meritiamo di occupare questo spazio di fare quello che facciamo siamo pieni di queste cose e la nostra mente è particolarmente brava a creare tutto questo genere di convinzioni. Proviamo a trovarne solo una solo una, quella che vi viene in mente per prima. percepiamo quanto sia limitante quanto ci faccia sentire allo stretto e possiamo anche portare una mano sul petto una mano sull'addome e percepiamo come pensare a questa tal cosa individuare questa convinzione che abbiamo su di noi magari ci stia facendo già anche modificare il nostro respiro magari porta con sé tutta una serie di emozioni di ansie di di tensioni cerchiamo di riportarci nel qui ed ora ok immaginiamo semplicemente come se fosse fisicamente un limite che ci siamo costruiti attorno a noi e col movimento in questa lezione di oggi cerchiamo di espandere i confini i limiti di questo di questa emozione di questa come dire questa convinzione che ci siamo costruiti da soli magari perché ci è stato detto da piccoli magari la società ce l'ha ripetuto e ce l'ha dimostrato ma abbiamo cominciato a crederci ci siamo attaccati a questa convinzione a questa visione di noi o del mondo e oggi andiamo a sfidare un po' i confini di queste convinzioni alle quali siamo tanto attaccati e vi chiedo di lasciare andare le mani dal corpo o dovunque voi le aveste appoggiate cominciamo a muovere i polsi muoviamo i polsi magari allarghiamo anche le braccia cominciamo a prendere tutto lo spazio di cui abbiamo bisogno e che ci meritiamo ruotiamo bene indietro le spalle facciamo dei belli gli inspiri quando ruotiamo indietro le spalle e espiro scendendo con le scapole lungo la colonna inspiro tutto su espiro scendo e continuo con i miei movimenti e al prossimo inspiro su con le braccia espiro di nuovo scendo con le scapole lungo la colonna e scendo anche con le braccia inspiro ed espiro cominciamo ad attivare bene le spalle le braccia ad aprire bene a generare un po' di energia attorno a me mi tiro da una parte dall'altra se siete inginocchiati come sono io potete anche aprire leggermente le ginocchia in modo da avere più stabilità nel movimento fantastico e da qui tutto su con le braccia sull'espiro torsione verso destra ed inspiro tutto su espiro torsione verso sinistra inspiro tutto su e vado dall'altra ultimissima torsione sull'inspiro tutto su ed espiro torsione verso sinistra vengo a guardare il lato corto del tappetino quindi magari mi sposto leggermente più indietro in modo da avere spazio ruoto di nuovo e bene indietro le spalle scivolo con le mani in avanti trovo la quadrupedia ok e da qui qualche andiamo ad incurvare un pochettino la schiena la risvegliamo se è la pratica che facciamo al mattino per risvegliare il corpo quindi sull'inspiro l'ombelico va verso il tappetino sull'espiro arrotondo la colonna guardo verso i miei addominali sull'inspiro tutto su ultimo espiro butto fuori tutta 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 l'aria e ritorno con la colonna in posizione neutrale ma adesso trovo dei bei movimenti con il bacino anche qui incomincio a sciogliere un po' la tensione attorno al bacino cerco di sfruttare bene tutto lo spazio che ho posso anche magari cominciare a creare dei cerchi sopra i polsi con le spalle come se volessi disegnare dei cerchioni enormi sopra ai miei polsi e posso tornare ai miei movimenti con il bacino ogni volta che ho più spazio espiro quindi coccige verso l'infuori inspiro porto il coccige verso i gomiti diciamo inverto il senso si comincio già a sentirmi leggermente più fluido magari punto i piedi e scendo con il petto al tappeto qua piccolo piccolo cobra o addirittura sfinge è il nostro primo inarcamento indietro quindi andiamo con i gomiti sotto le spalle le mani ben aperte con le dita ben aperte davanti a noi attraggono il pavimento verso di noi apriamo bene il petto spingo verso il basso le scapole punto i piedi dietro trovo spazio nella parte frontale del mio petto espiro apro i gomiti sia che siamo saliti in cobra sia che siamo stati nella sfinge una mano sopra l'altra riposo la fronte sulle mani un bel espiro lungo qui comincio già a portare le mani sotto alle spalle punto i piedi quadrupedia per prima cosa saliamo bene su con il con il bacino sentiamo la colonna che si allunga spingo bene con le mani mi raccomando dita ben aperte indici o medi che puntano verso il lato corto del tappetino e il coccige invece che spinge verso l'alto come se volesse andare a baciare il soffitto trovo dei bei passettini sul posto mai non voglio mai andare a stendere immediatamente le gambe mi cerco di staccare da tutti quei pensieri barra convinzioni che mi vengono in mente anche durante la pratica del tipo se non faccio un cane testa in giù perfetto vuol dire che non sono uno yogi o una yogini abbastanza avanzato o che so io sul prossimo inspiro tutto su con la gamba destra su 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 magari energizzo anche bene le dita del piede destro le apro bene shaker un pochettino il piede vado a flettere la gamba e trovo dei bei movimenti circolari con il ginocchio scelgo io il verso sull'inspiro stendo la gamba sull'espiro ginocchio al gomito tutto su vado ad ispirare allungo la gamba su e ispiro ginocchio al gomito vado a smuovere un po' di energia ancora due tutto su in s inspiro allungo la gamba verso l'alto e ispiro porto il piede destro in mezzo alle mani e da qui andiamo con anche il piede sinistro in avanti in mezzo alle mani ma il piede sinistro rimarrà super super leggero tutto il peso o quasi del nostro corpo rimane sul piede destro ok possiamo anche appoggiarlo proprio leggermente flettiamo bene le gambe e andiamo a srotolare la colonna verso l'alto perché siamo rimasti leggeri su quel piede destro perché adesso andiamo nella posizione dell'aquila scendo e vado a portare la gamba sinistra sopra la destra cerco di tenere le anche sulla stessa linea quindi se vedo che andando ad uncinare la tibia in realtà il polpaccio destro mi fa disallineare le anche allora non non incrocio e da qui incrocio invece le braccia poco importa come le incrocio nel senso quale braccio sta sotto perché adesso vedrete andremo a incrociarle più volte perderemo probabilmente il senso se non riuscite a portare un palmo verso l'altro potete tenere il dorso della mano verso l'altro dorso e qui sento bene i gomiti che spingono in avanti e verso l'alto percepisco il limite percepisco gli avambracci davanti al viso che creano come questo confine davanti al nostro volto quello che faccio è inspirare aprire le ali del mio garudo e della mia aquila espiro scendo con il busto sull'inspirò tutto su espiro incrocio inspiro apro mi libero dai limiti espiro scendo sento le gambe che mi sostengono delle belle fondamenta incrocio sull'espiro sull'inspiro riapro ultimo espiro scendo inspiro tutto su smuovo l'energia e mi libero da questo confine da questa costrizione apro bene le braccia espiro scendo e riporto entrambi i piedi al tappeto espiro completamente guardo verso le tibie mani sotto le ginocchia sull'inspiro allungo la colonna guardo verso guardo davanti a me sull'espiro mani a terra fletto le gambe una gamba alla volta vado indietro trovo adomukhasvanasana sull'inspiro panca ginocchia magari al tappetino incrocio le caviglie fletto le braccia scendo al tappeto con il busto mani sotto le spalle ruoto bene indietro le spalle apro il petto cobra mi raccomando non siamo qui con le spalle voglio creare tantissimo spazio continuare a creare tantissimo spazio tra le mie spalle e le orecchie espiro scendo mani vicino al petto punto i piedi sull'inspiro tutto su adomukhasvanasana il cane che guarda in basso di nuovo magari passettini ricerco quello che mi fa stare bene e al prossimo inspiro mi raccomando bene su con la gamba a sinistra e trovo dei bei movimenti circolari con quella anche a sinistra questa volta inspiro tutto su con la gamba espiro ginocchio al gomito lo stesso quindi il sinistro espiro in tutto su smuovo l'energia espiro tutto su espiro scendo inspiro tutto su ed espiro piede in mezzo alle mani e di nuovo super super leggeri sul piede destro questa volta è il sinistro che ci sostiene porto il mio incrocio posso anche non uncinare come ho fatto prima tengo le gambe le anche sulla stessa linea e incrocio le braccia spingo in avanti i gomiti in avanti e verso l'alto percepisco il confine mi voglio liberare apro le mie ali scendo busto verso le gambe sull'inspiro tutto su sposto l'energia verso l'alto e rincrocio mi chiedo è proprio vero che non sono abbastanza espiro scendo è proprio vero ed è poi così giusto imputare espiro incrocio imputare la mia felicità ho il mio valore a un evento esterno apro bene le braccia mi libero e lascio andare espiro scendo ultimo inspiro salgo mi chiedo se di pancia sento bene il confine qui e mi chiedo di pancia se lo trovo se non lo trovo limitante se non penso di essere molto di più di questo espiro scendo ed ultimo mani al tappetino gamba sinistra ben ben flessa mi permette di portare il piede destro a terra espiro fronte verso le tibie mani sotto le ginocchia sull'inspiro guardo in avanti allungo la colonna espiro scendo e da qui mani al tappeto posso saltare o semplicemente camminare indietro e trovare trovarmi direttamente in chaturanga un po' così per darci un tono inspiro trovo chaturanga sull'inspiro tutto su urvamukhasvanasana ovvero cane che guarda verso l'alto apro bene il petto spingo bene con le mani verso il tappeto bene bene su con la testa in modo da creare spazio tra le orecchie e le spalle tutto su con il bacino adho mukha svanasana fantastico allungo bene la colonna qui espiro scendo ritrovo quadrupedia e di nuovo inspiro marjoriassana guardo verso l'alto espiro scendo e noto semplicemente le differenze tra il nostro primo marjoriassana questa posizione la posizione del gatto e come mi sento adesso e da qui porto la mano sinistra al centro dello spazio tra le mani sull'inspiro tutto su con il braccio destro lo vado a stendere bene verso su verso l'alto magari energizzo le dita delle mani della mano destra e spiro vado ad abbracciarmi da dietro afferro o vado anche solo in direzione della mia anca sinistra guardo verso l'alto se mi fa male il collo guardo semplicemente verso destra sull'inspiro tutto su con il braccio espiro scendo adesso la mano destra che sarà al centro tutto su su con il sinistro mi abbraccio da dietro guardo verso l'alto o verso sinistra semplicemente sento bene la torsione e permetto al mio corpo di lasciare andare lasciare andare le tossine in questo caso con la torsione sull'inspiro tutto su riguardo verso il tappetino scendo balasana e nella posizione del bambino posso anche portare le braccia lungo il corpo quindi le spalle a riposo e magari dondolo a destra e a sinistra per massaggiare la fronte spingendo verso il tappetino mi riporto su con il busto sciolgo la posizione delle gambe perfetta e da qui stendo le gambe davanti a me vogliamo andare verso destra ok verso destra quello è giusto porto la mia gamba destra a flettersi e la porto all'esterno della mia gamba sinistra ok se voglio andare nella torsione nella nostra ultima torsione in una maniera meno intensa posso rimanere con la gamba sinistra distesa se voglio posso anche andare a flettere la gamba sinistra cerco di avere entrambi gli schiaterra e da qui vado ad abbracciare o con l'avambraccio o con la mano sinistra il mio ginocchio destro sull'inspiro tutto su con il braccio destro mi raccomando questo è importante perché vogliamo allungare la colonna mi voglio proprio allungare verso l'alto e inspiro scendo con la mano la porto dietro al coccige tengo il gomito destro flesso in modo da riuscire ad aprire bene la spalla la spalla destra e mi lascio andare nella posizione riporto la respirazione nell'addome permetto alla torsione di partire dal centro della colonna vertebrale cerco di non andare in profondità se sento che il mio corpo bisogna ancora di lavorarci un pochettino di arrivarci per gradi cerco di rispettare quello che mi sta chiedendo il mio corpo se voglio posso cercare di guardare in direzione della mia spalla cerco di non forzare il mio collo a guardare dietro di me non è la parte cervicale della nostra colonna vertebrale che deve andare in torsione ma anzi cerchiamo di andarci con il torace di proteggere invece il collo e spiro sull'inspiro torno su con i braccio riallungo la colonna rimango per un attimo al centro permetto alla colonna vertebrale di assorbire tutti gli effetti della torsione provo a percepire se mi sento più radicata al pavimento più più libero porto le mani dietro di me faccio semplicemente incrocio le gambe nella maniera opposta posso sempre tenere la gamba destra in questo caso distesa se voglio altrimenti le fletto entrambe mi raccomando entrambi gli schi al tappeto se no posso andare a rotolare il tappetino sotto agli schi in modo da rimanere con gli schi alla stessa altezza da qui andiamo ad abbracciare o a semplicemente attrarre verso di noi il ginocchio sinistro con la mano destra sull'inspiro tutto su con il braccio espiro vado in torsione apro bene la spalla sinistra mi raccomando braccio sinistro ben flesso in modo da permettere la spalla sinistra veramente di aprirsi collo lungo e mi raccomando non lo forza a guardare dietro di noi magari riguardo in direzione della spalla e anche qui mi concentro sul lasciare andare lasciare andare questa convinzione questa idea di una felicità sempre e comunque che aspetta qualcosa da fuori per per essere provata da noi o il nostro valore che è sempre e soltanto conseguenza di qualcosa che arriva da fuori cerco di non attaccarmi ci cerco di lasciare andare come cerco nella vita di non imputare la mia felicità ad un bene materiale cerco di di fare il mio cerco di essere felice e di ricercare la felicità all'interno cerco di migliorarmi a prescindere che quella persona mi dia le sue attenzioni a prescindere da qualunque cosa noi abbiamo deciso sia il nostro traguardo di approvazione qualunque cosa ci abbiano detto fin da piccoli ed espiro tutto su sull'inspiro salgo con il braccio torno a guardare in avanti mi permetto di assorbire tutti gli effetti della pratica sia emotivamente che fisicamente e da questo momento possiamo portarci in shavasana se vogliamo o possiamo semplicemente andare a incrociare le gambe con la schiena ben dritta agli occhi chiusi continuiamo il nostro il nostro percorso alla scoperta o anche semplicemente al il nostro cammino che abbiamo intrapreso durante questa pratica magari portiamo un palmo della mano sopra l'altro il dorso di una mano sopra l'altro palmo andiamo a creare come una coppa con le nostre mani e proviamo a mantenere questa convinzione il lavoro che abbiamo fatto durante la pratica all'interno dello spazio che abbiamo creato con le nostre mani mettiamo in dubbio quelle che sono queste convinzioni la convinzione che abbiamo a cui abbiamo pensato che magari ci è venuta in mente durante la pratica non per forza all'inizio può essere anche qualcosa di talmente tanto integrato talmente tanto parte di noi che non la percepiamo come una convinzione limitante come qualcosa da mettere in dubbio in qualche modo limita la nostra felicità limita costantemente quello che pensiamo di noi quello che pensiamo del mondo e ci siamo in qualche modo attaccati con tutti noi stessi che in qualche modo era più semplice talvolta pensarla così non abbiamo fatto da talmente tanto tempo e decido se è ora di lasciare andare se voglio anche semplicemente cominciare a lavorarci posso dopo questa pratica prendere un diario prendere un pezzo di carta e scrivere proprio tralasciare sulla carta lasciare andare proprio tutto ciò che ci è venuto in mente il lavoro che abbiamo fatto durante la pratica in modo che sia un inizio di un percorso che non sia un evento isolato non sia qualcosa che abbiamo iniziato e lasciamo andare e lasciamo lì specialmente se durante la lezione durante la sequenza che abbiamo fatto su Garuda ci siamo sentiti particolarmente è stato per noi particolarmente liberatorio quello è indice del fatto che abbiamo bisogno di liberarci di quella tal cosa cerchiamo più spesso di ascoltare il nostro corpo e le cose che ci dice adesso prossimo inspiro a ruote indietro le spalle magari sciolgo il mudra quindi la posizione delle mie spalle posso anche riaprire gli occhi se siamo in Shavasana cominciamo a trovare tutti i nostri movimenti per riportarci seduti su al tappetino mi raccomando con l'aiuto delle mani e delle braccia ci riportiamo su ci prendiamo il nostro tempo e sull'inspiro tutto su con le braccia e espiro scendo porto angeli in mudra quindi le mani in preghiera davanti al petto e ringrazio per il mio corpo per quello che ha fatto per me per il percorso che ho fatto oggi su questo tappetino e grazie ragazzi di aver praticato come oggi spero sia l'inizio di un percorso o una parte di un percorso che magari avevate già cominciato a fare o che abbiate riflettuto su qualcosa sul quale avevate bisogno di riflettere da tanto tempo prendetevi il tempo di iscrivervi al canale e fatemi sapere sotto nei commenti come è andata e se vi siete sentiti in qualche modo liberati siete riusciti a fare dei passi in avanti verso il non attaccamento io vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao